Buongiorno e ben ritrovato. Buongiorno a tutti su TCS Telecosta Smeralda per una nuova edizione del magazine 31 luglio, domani agosto l'estate inizia ma la Sardegna si prepara all'autunno, autunno in barbagia, ormai più di una sagra, un vero evento trascinatore, dal 7 settembre al 15 dicembre la 24esima edizione, diamo qualche dato, 500 mila visitatori per coinvolgere 34 comuni. Più di un evento, più di un format di successo, autunno in barbagia, 2024 rappresenta plasticamente un modello, modello di sviluppo e condivisione, di unione tra i 34 comuni che da 24 anni si uniscono e crescono, si raccontano insieme. E quest'ultimo aspetto non è da sottovalutare, anzi, oggi durante la presentazione c'è e c'era euforia e soddisfazione per un progetto che va oltre, crea, crea indotto, tanto piace, piace ai turisti che capiscono il valore della Sardegna, dell'isola la nostra. Piace agli oltre 500 mila visitatori, e siamo in difetto, che da oltre 20 anni scoprono codici e marchi di fabbrica dell'isola. Turismo e turisti, raccontare e raccontarsi. Perché? Perché autunno in barbagia, 2024 e tutto questo e tanto, tanto altro ancora, una vetrina naturale di posti e luoghi e delle loro eccellenze. Sottolineano all'unisono i protagonisti istituzionali durante la presentazione, che si tiene non a caso l'assessorato del turismo, artigianato e commercio della regione. Turismo e artigianato, enogastronomia, è tradizione di ogni singolo centimetro di quei comuni e comunità che stanno insieme, tutti insieme, in una condivisione di valori e identità, di scoperta e promozione del territorio. E allora? Autunno in barbagia è una scommessa vinta. Autunno in barbagia è una scommessa vinta ed è un esempio per molte altre iniziative. Io credo che è stato già emulato, non con lo stesso successo, da Primavera nei Borghi e da tante altre manifestazioni. Ecco, noi continueremo, ci ostineremo, anche se naturalmente il brand e la storicità di questo evento ne fa un caso unico di successo. Autunno in barbagia sia dal 7 settembre al 15 dicembre in un crescendo di appuntamenti e di bellezza, di generazioni nuove, soprattutto nelle ultime edizioni, che riscoprono la Sardegna. E già questa lettura potrebbe chiudere una narrazione. E ora il caso Balneari, Balneari che minacciano lo sciopero, una serrata di ombrelloni durante il mese di agosto, con Matteo Salvini a Olbia che propone un patto entro il 9. Arriva la minaccia di serrata degli stabilimenti Balneari, ombrelloni e drai chiusi per qualche ora in diversi giorni di agosto, in piena stagione. Ma il clima rovente, oltre che per il soleone e anche per chi da anni attende una legislazione di settore, a stemperare gli animi, ieri è arrivata la dichiarazione del ministro Matteo Salvini durante un incontro, tenutosi ad Olbia, con gli esponenti della FIBA, con fori esercenti della Sardegna. A dare le notizie a Gegi Molinari, presidente della Confederazione. Il ministro Salvini ha detto, ieri ci ha dato ampie rassicurazioni in tal senso, entro la chiusura dei lavori per la pausa estiva, presumibilmente entro il 7 e 9 agosto, il governo presenterà la sua legge che osserverà i seguenti principi fondamentali. Proroga delle concessioni di tre anni, entro i quali si dovranno fare i bandi per la riassegnazione delle concessioni demaniali, tanto reclamati dall'Europa. Previsione nei bandi del principio dell'equindennizzo a favore dei concessionari eventualmente uscenti, riconoscimento del principio del reddito prevalente, riconoscimento della prelazione a favore dei concessionari. Avremmo preferito evitare i bandi, conclude Molinari, ma con questi accorgimenti la legge futura potrebbe anche lasciarci soddisfatti. Naturalmente dovrebbe essere quanto più precisa possibile, limitando al minimo ogni possibilità di interpretazione da parte degli enti locali che esercitano le funzioni amministrative. In caso contrario, si rischia di distruggere la balneazione attrezzata italiana, un settore efficiente e di successo che il mondo ci invidia. Lo stato di agitazione nel settore comunque continua. Si vedrà se il ministro Salvini riuscirà a mantenere l'ennesima promessa di proroga e soprattutto se l'Europa e il Consiglio di Stato accetteranno i termini di questa proroga. E ora il campeggio, un tipo di turismo in crescita, soprattutto dopo il Covid, lo confermano i numeri delle prenotazioni in costante aumento, ma al tempo stesso aumentano anche i prezzi. Non si ferma, la voglia di campeggio è aria aperta. Quest'anno le prenotazioni per alloggiare in camping sono aumentate del 22% secondo le stime dell'Osservatorio Nazionale FederConsumatori. A testimoniare la crescita di una tendenza esplosa dopo il Covid e che non sembra fermarsi. Le ragioni di chi sceglie questo tipo di soluzioni sono molteplici. La voglia di stare all'aria aperta e a contatto con la natura o semplicemente la voglia di risparmiare, visti i costi sempre più alti di hotel e appartamenti, mentre quelli dei campeggi sono più accessibili. I costi dei campeggi tuttavia non sono stati risparmiati dai rincari dell'estate 2024. I prezzi per alloggiare in camping, secondo FederConsumatori, sono aumentati dell'11%, una percentuale inferiore rispetto a quella che riguarda gli hotel. Il soggiorno nel periodo estivo è aumentato mediamente del 17%, ma comunque superiore rispetto a un anno fa. Sono aumentati i costi soprattutto delle piazzole, 24% in più per roulotte o camper, 21% in più per le tende piccole e 19% in più per la tenda grande. È sceso invece del 10% il costo per l'ingresso degli animali. Secondo FederConsumatori, per trascorrere una settimana in campeggio, in una località balneare, tra piazzola, ingressi, pasti e servizi, una famiglia composta da due adulti e due bambini spende in alta stagione oltre 1.500 euro, il 10% in più rispetto al 2023. Chi sceglie la comodità spende invece il 66% in più. Una settimana in bungalow arriva infatti a costare 2.345 euro, l'8% in più rispetto alla scorsa estate. C'è chi sceglie invece di coniugare aria aperta e comodità con il glamping, il campeggio glamour in cui è possibile godersi la natura e l'aria aperta senza rinunciare ai lussi di un hotel. Anche in questo caso FederConsumatori registra un aumento del 9% con una settimana per una famiglia composta da due adulti e due bambini che costerebbe poco più di 2.300 euro. E ora il progetto dell'Associazione Sardegna Accessibile che si batte perché le più belle spiagge sarde siano rese fruibili anche dalle persone con disabilità. Qualche passo avanti è stato fatto ma c'è ancora tanto da fare. Una Sardegna accessibile a tutti, anche a persone con disabilità che hanno diritto a godersi le spiagge e vivere una vacanza in una struttura di ospitalità senza barriere. E questo è il sogno di un gruppo di amici che hanno scelto di lavorare perché questa idea, attraverso azioni concrete, diventi realtà. Tutto è nato da una pagina Facebook tenuta da Alfio Uda e da sua moglie Luciana Hatful, nella quale venivano e vengono tuttora indicati i posti accessibili alle persone con disabilità. Si raccolgono lamentele riguardo all'inaccessibilità di alcuni stabilimenti balneari, si danno suggerimenti. Ci scrivono da tutta Italia per chiedere dove poter andare, se ci sono hotel che hanno direttamente un accesso al mare, villaggi turistici. e purtroppo molti, dobbiamo dire di no, molti rinunciano a venire perché non ci sono strutture adeguate. Di questo dovrebbero farsi carico un po' anche gli imprenditori, perché è brutto dirlo, ma il turismo per disabili è un turismo molto ricco perché il disabile non viaggia mai da solo, è sempre accompagnato almeno da una persona se non dall'intera famiglia. Poi normalmente si trattiene il doppio del periodo del normo dotato e soprattutto si fidelizza. Siamo un po' stanchi di andare a cercare luoghi accessibili, quindi tendiamo a tornare dove siamo stati bene. Quindi anche questa è una cosa a cui dovrebbero pensare perché c'è anche un grande ritorno economico. La pagina ha avuto un successo tale e tante. Sono state le richieste da parte di persone desiderose di venire in Sardegna in strutture idonee che marito e moglie insieme ad altri amici hanno dato vita ad un'associazione, appunto Sardegna Accessibile, che ha l'obiettivo di sensibilizzare in particolar modo le istituzioni pubbliche, le comunità e gli imprenditori sull'esigenza di investire in strutture che rendano le spiagge più belle della Sardegna accessibili a tutti e a tutte. Grazie alla buona volontà di alcuni amministratori comunali siamo riusciti a realizzare alcuni progetti un po' in giro per la Sardegna, soprattutto in provincia di Ristano, dopo il prima non c'era niente di accessibile. Adesso nel comune di Cabras ci sono state attrezzate le spiagge di Mari Ermi e di San Giovanni di Sinis con pedanato, con il solarium, lettini e ombrelloni che sono gestite dalle associazioni della protezione civile dove i disabili possono accedere gratuitamente. Diciamo che siamo riusciti a fare delle belle cose ma c'è tanto, tanto ancora da fare. Il turismo delle persone con disabilità è consistente e almeno per questo, afferma Alfio Uda, comuni e imprenditori dovrebbero fare degli investimenti se non per il semplice principio che chiunque ha diritto di poter godere della bellezza. Pochi migliaia di euro per rendere uno stabilimento completamente accessibile, basta una pedana, un solarium. Insomma, non credo che un imprenditore balneare che ha, voglio dire, una concessione balneare che guadagna, non paga tanto al demanio, questo lo sappiamo, non possa investire quattro soldi per avere uno stabilimento accessibile, tant'è che è anche obbligato per legge a farlo e attenzione, la legge come l'ordinanza balneare in vigore della regione Sardegna dice che gli stabilimenti balneari devono essere resi accessibili ai disabili in carrozzina, purtroppo manca la sanzione, però la norma c'è. Il futuro della Sardegna è quello di essere più accessibile, il futuro o anche il presente della città di Cagliari è quello di essere più pulita, più turistica, l'iniziativa del comune punta a riportare pulizia e decoro nel centro storico del capoluogo. Rendere la città di Cagliari più pulita è l'obiettivo dell'amministrazione comunale che lancia l'iniziativa Cagliari Limpia per riportare pulizia e decoro al capoluogo sardo. A cominciare dal centro storico e dalla marina dove il grande afflusso di turisti, soprattutto in pieno periodo estivo tra luglio e agosto, rende ancora più necessario intervenire e in fretta. Abbiamo deciso di avviare un intervento di pulizia straordinaria della città, in particolare di lavaggio dei marciapiedi e delle strade laddove non siano presenti i marciapiedi, che abbiamo ritenuto assolutamente indispensabile in questa fase di avvio del nostro lavoro, sia del lavoro dell'assessorato che della giunta, perché la città ci chiedeva soprattutto questo. La città risultava sporca, particolarmente sporca e quindi molto banalmente abbiamo deciso di fare quelle che normalmente chiamiamo le grandi pulizie di primavera, noi abbiamo deciso di farle ad agosto, tra l'altro in concomitanza anche con la rassegna culturale che abbiamo organizzato. Si tratta di un intervento straordinario nel capitolato dell'appalto. Era previsto il lavaggio del centro storico tre volte a settimana durante l'estate, ma non era previsto il lavaggio dei marciapiedi. L'intervento in pratica consiste nell'utilizzo di una squadra composta da due operatori e da un mezzo meccanico che ha un'autocisterna praticamente e viene eseguito con una lancia che spara l'acqua a svariate pressioni in maniera tale che venga lavata in maniera efficace proprio la superficie del marciapiede. Lo spostamento delle auto non serve perché si interverrà proprio sui marciapiedi e in ogni caso abbiamo un uomo a terra che si sposta con questa pompa, quindi non è necessario rimuovere le macchine e oltretutto questo intervento di pulizia verrà eseguito nelle ore notturne al fine di arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza sia in termini di quiete che in termini proprio di mobilità. Il lavaggio sarà eseguito nei quartieri di Marina, Stampace, San Benedetto e Villanova. L'idea dell'amministrazione è quella di portare avanti l'iniziativa anche a settembre ed allargarla ad altri quartieri fino a coprire tutta la città di Cagliari. Una città di Cagliari che diventa sempre più turistica, lo confermano i dati degli arrivi all'aeroporto di Elmas e i numeri delle presenze negli alberghi e nei bed and breakfast della città in aumento rispetto agli anni precedenti e che anche per questo punta ad essere più pulita. Era l'ultimo servizio, vi do appuntamento alle prossime edizioni, grazie per averci seguito. Grazie. 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 Grazie.